Lecce-Monza termina con un pareggio, precisamente 1-1 Oggi va in scena questa partita importante di Serie A Il Lecce gioca in casa, il Monza fuori casa Un risultato forse che nessuno di noi si aspettava Che però, purtroppo, per fortuna, arriva Il Lecce fa un gol che arriva nel secondo tempo Il Monza ha anche un gol nel secondo tempo Entrambi i gol arrivano praticamente sul finire nel secondo tempo Per il Lecce il gol ha fatto Krestovic Per quanto riguarda invece il Monza, lo fa Matteo Pessina Le statistiche sono tutte positive per il Monza rispetto al Lecce Abbiamo più possesso di palla, molti più passaggi E però una previsione dei passaggi lievemente inferiore rispetto al Lecce Che però, nonostante questo, ha giocato secondo in più abbastanza bene Dall'alto dei cieli Silvio Berlusconi potrà ritenersi soddisfatto Ovunque gli si trovi, perché vi ricordo che è morto a giugno dell'anno 2023 Sapendo che comunque il Monza si è impegnato in un poco Va bene? Però diciamo che c'è stato questo pareccio Iscrivetevi al canale Narrato Italiano Buonasera Buonasera